Sei pronta? Parto io? Parti tu? Partiamo insieme. Frida Bollani Magoni e Paolo Giannacci in piazza Tarleti e Bibiena hanno chiuso la prima serata della settima edizione di Naturalmente Piano Forte, il Festival Anima del Casentino, che sino a domenica 21 luglio ha in programma una serie di eventi a qualsiasi ora del giorno e delle notte. È stato ed è il mio primo strumento, sicuramente anche per Paolo, siamo cresciuti tutto sommato in maniera abbastanza simile, siamo tutti e due figli di musicisti che siamo stati approcciati al pianoforte, ci è stato messo davanti questo strumento fino a quando eravamo piccoli, quindi ovviamente è uno strumento che ha una certa importanza. Il fatto di comunque pensarci all'interno di un corpus naturale, secondo me è importante per noi artisti, ci dà di più, ci fa crescere, ci rende più sensibili verso l'altro e verso quello che sta succedendo. Una coppia inedita assieme in un'esibizione su due pianoforti e due voci. Mi fa molto piacere che ci siamo incontrati, abbiamo provato a fare questa cosa insieme e devo dire che viene bene, è un bello spettacolo da offrire al pubblico. Suonare quattro mani è un conto su un pianoforte in cui uno dei due musicisti occupa la parte più alta del piano e l'altro le basse. In questo caso ovviamente noi in realtà abbiamo due strumenti a 88 tasti con la stessa potenzialità, il pianoforte è uno degli strumenti più polifonici al mondo, si possono suonare dieci note, quindi insomma dieci note per due diventano venti, quindi insomma non è facile arrangiare per due pianoforti, capire cosa suonare senza suonare troppo. Ad aprire il festival nel chiostro della chiesa di Camaldoli, toma Subacca fresco del suo album d'esordio. A Borgo Corsignano si è invece esibita la pianista cantante tedesca Olivia Trummer, una delle rivelazioni della scena europea di questi anni. Grazie.